benissimo siamo in diretta anche oggi giovedì ventiquattro febbraio alle ore diciotto e qui alla mia destra diciamo trovo subito marta villa ovvio adesso prima però di presentare marta villa dobbiamo fare sempre la nostra cosa ovvero presentare la sigla dopo la sigla presentiamo bene marta via alla sigla ed eccoci qua allora marta antropologa ci presenterà una cosa molto particolare un progetto europeo legato alla viticoltura ma centriamo con calma nei meandri del progetto quindi capiremo anche che cosa vuol dire paesaggio e quindi parleremo anche delle opportunità di visione del paesaggio che ne abbiamo perché non ne abbiamo una sola per chi è amante della geografia ovviamente eugenio turri è un nome fondamentale ok quindi piano piano prendiamo le misure di questo progetto e faremo una serie di domande ovviamente vi ricordo che potete fare le domande anche nei commenti dei vari social io da regia seguo il tutto e richiamo se ci sono domande specifiche le mettiamo in sovrappressione cerchiamo di rispondere o io o ancora meglio marta e quindi marta ti chiedo di presentarti velocemente poi di entrare nel mondo della del progetto grazie infinite samuel molto felice di essere con te qua e a dare spazio anche a questo progetto che è un progetto pilota quindi sarà anche interessante seguire qualche commento eh del nostro pubblico magari per avere ulteriori feedback eh su altri luoghi dove progetti simili si stanno facendo io sono un'antropologa culturale mi occupo di Alpi da sempre nel senso da quando ho iniziato lo studio di antropologia culturale mi sono laureata e poi eh ho preso il dottorato in Bicocca a Milano di infatti sono originaria della pianura di Monza vicino Milano però ho fatto appunto questo ricerca sul campo come dire un po' obbligatoria per noi è il battesimo del fuoco per noi antropologi eh sulle Alpi in una cultura diversa molto diversa dalla mia perché ho studiato la minoranza sud tirolese eh quindi addirittura con una lingua diversa eh dalla mia eh e con anche usi e costumi differenti dalla pianura lombarda ovviamente in questo modo ho potuto permettermi di avere quella visione distaccata eh che eh l'antropologia chiede eh quando appunto anche anche quando facciamo antropologia domestica cioè quella dell'Europa quindi di casa nostra e ehm andando appunto a esplorare le Alpi orientali eh poi sono rimasta per cui sto proseguendo appunto le mie varie ricerche che si orientano fondamentalmente da adesso eh sulla appunto l'areale alpino orientale eh legate all'alimentazione e quindi tradizioni anche anche micro eh produzioni eh delle delle nostre dei nostri territori eh e eh anche un collegamento importante con il paesaggio eh perché mh è recente il mio secondo appunto dottorato svizzero stavolta in storia contemporanea dove ho studiato trecento anni di fondo valle rotaliano quindi di vino ne ho studiato parecchio quindi trecento anni di produzione di teroldego e di risistemazione della piana rotaliana poi magari diciamo meglio per i nostri ascoltatori che non sono trentini ehm che appunto è questa pianura che si trova micro pianura che si trova a nord di Trento e a sud di Bolzano ancora appunto in provincia eh di Trento è una bella piana come dire che eh quindi ha da sempre avuto la possibilità di coltivazione anche quasi intensiva monoculturale di vite e in questo caso appunto il vitigno più famoso è il teroldego ehm la cito perché l'argomento di di questa sera poi ci porterà a solcare la piana e salire perché è da lì che si sale nella nostra valle oggetto del nostro eh progetto progetto europeo e si parlerà di vino anche in questo caso eh e dicevo appunto che è stato interessante vedere come in trecento anni il fondo valle è stato sistemato dalla fatica appunto dell'uomo e dai governi quindi c'è stata una governance eh molto puntuale per cercare di strappare qualsiasi metro di terra ma cosa accaduta anche in altri luoghi delle Alpi al alla furia delle acque eh in questo caso l'adige che è il fiume che solca la valle e il noce che è il grosso torrente impetuoso che scende dalla Val di Non e incrocia l'adige proprio nella piana per permettere appunto la coltivazione che all'inizio era anche una coltivazione di sussistenza eh perché oltre al vino facevano anche cereali minori piuttosto che orto eh e quindi permetteva a queste persone di poter sopravvivere e che oggi invece si è trasformata in frutticoltura da una parte le mele famose mele no del del trentino e appunto viticoltura viticoltura con una particolare eh impianto che è quello a pergola doppia che è un po' tipico della nostra zona meno tipico di altre zone cioè una bella vite ampia quindi un bel pergolato ampio eh perché questi come dire uvaggi che sono stati selezionati poi da l'istituto agrario quindi da gli agronomi esperti eh preferiscono avere un po' di aria attorno no e quindi non essere troppo fitti in questo modo danno il meglio di sé eh e permette si permette in questo modo anche di avere appunto una bella produzione di qualità perché ovviamente adesso il trentino quindi magari poi ci addentriamo anche nel nostro progetto che eh cerca di favorire la qualità sul vino eh sta cercando di favorire appunto la ricerca di una qualità sempre più ehm come dire elevata rispetto alla quantità cioè le tante bottiglie ok bene ti metto in condivisione le slide iniziamo così eh prendiamo bene le misure e poi arrivo con qualche domanda eh non ti lascio sola tranquilla grazie aspetta un attimo che arriviamo ok eccoci qua è sempre il bello della diretta ecco appunto come vedete già ho messo ho voluto mettere una fotografia della Val Dicembra che tra l'altro fotonota nel senso che spesso se eh si cerca Val Dicembra su Google eh queste sono le immagini che mostrano proprio anche l'azienda per il turismo la nostra azienda di Trentino Marketing che è quella che promuove appunto il la la visione della del Trentino anche fuori no all'esterno e quindi la Val Dicembra come vedete già da questa immagine che abbiamo messo che ho messo all'inizio è caratterizzata da questi vigneti ehm poi diremo di quali è il vaggio principale e poi con questi baiti secondo tenuti ancora eh secondo lo stile tradizionale quindi di sasso ehm all'interno appunto di questi vigneti la caratteristica importante della Val Dicembra la diciamo subito perché è eh quella che la ne fa appunto il patrimonio eh principale per questa candidata anche a patrimonio eh della dell'umanità o perlomeno è entrata nei paesaggi terrazzati è appunto questo il fatto della dell'arte dei moretti a secco moretti a secco che ovviamente mh nel mondo stanno scomparendo ma che erano una modalità tradizionale di eh anche qua rubare eh centimetri di terra perché si fa alcunicare si fa i centimetri di terra alla appunto la montagna per permettere appunto alle persone che vivevano lì di non morire di fame. Adesso c'è stata questa valorizzazione eh ovviamente importante dal punto di vista vitivinicolo eh per cui il paesaggio è un tutt'uno quindi l'agricoltura in questo caso nello studio come stiamo facendo è un è un tentativo per valorizzare anche il paesaggio quindi non fare un'agricoltura che deturpi eh il paesaggio ma fare un'agricoltura che eh accompagni la bellezza anche del paesaggio stesso perché ovviamente eh questo è il gioco forza ehm una bel paesaggio richiama persone se le persone vengono il prodotto può essere anche venduto conosciuto e venduto e quindi si crea un'economia circolare che permette a questi piccoli paesi di montagna di ehm come dire sopravvivere in maniera anche degna eh piuttosto che essere abbandonati spopolati come è accaduto comunque anche in questa valle negli anni nei decenni passati quando la viticoltura non era eh come dire come adesso di qualità ecco io eh volevo farti una domanda legato appunto alle eh alle case chiamo chiamiamo le case che sono legate al a quel eh territorio anche lì eh sono strutture tradizionali da questo punto di vista ehm in quel caso eh ci sono eh praticamente possono essere pensate anche per un prossimo sviluppo turistico nel senso eh adesso servono eh fondamentalmente per eh il paesaggio vitivinicolo di riferimento e al suo eh molto probabilmente alla trasformazione ovviamente no delle delle uve o comunque delle prime fasi ma in un prossimo futuro potrebbe essere pensato e l'altra domanda che ti faccio legata al tema sempre del paesaggio tu hai già toccato il tema UNESCO eh abbiamo avuto in come prima puntata Bravin che ha parlato ovviamente delle cinque terre e anche lui dei paesaggi terrazzati e del del patrimonio UNESCO e allora la domanda che ho girato a Bravin la faccio anche a te tra virgolette attenzione che ogni volta che noi mettiamo qualcosa a patrimonio UNESCO e se tutto diventa patrimonio UNESCO dove sta la differenziazione eh scusami eh ma sono un marchettaro di di partenza io lavoro nel marketing e quindi quello che mi interessa è cercare di far saltare fuori anche tutte le varie differenziazioni dei territori quindi queste prime due domande te le giro subito e fai bene perché eh io sono anche presidente UNESCO di Trento del club UNESCO di Trento e su questa cosa che hai detto seconda ci ritorno subito prima rispondo alla prima domanda certo sono d'accordo con te in effetti questa inflazione dei patrimoni potrebbe portare a una svalutazione no poi dei patrimoni storici comunque sono stati dichiarati anche per la necessità di una tutela importante ma ci torniamo subito dopo prima appunto che comunque parliamo di patrimonio lo stesso in questo caso è questo patrimonio edilizio tradizionale che ovviamente anche all'interno del nostro progetto quindi già cominciamo a dare qualche informazione eh di questo progetto pilota eh sono eh interpretate come luoghi dove il il viticoltore può creare una sorta di attrattività nel senso usati non solo per come dicevi giustamente tu prima immagazzinare gli attrezzi piuttosto che appunto eh per le prime fasi dell'accolta mentre si fa appunto la vendemmia ma ehm avere appunto ottenere dei contributi su progetti creativi eh per ehm come dire riutilizzarli e far vivere delle esperienze particolari anche al turista che può essere anche la vendemmia in effetti insieme ehm con però delle basi d'appoggio che possono appunto servire per un incentivare un turismo di un un diverso dal solito in questo caso sicuramente la parola slow eh quindi un turismo dolce un turismo lento un turismo che sa è capace di assaporare anche la fatica no? di eh appunto questo lavoro che senza la quale perché qua ancora la raccolta è quasi tutta a mano perché il terreno è molto impervio quindi senza la quale non si avrebbe il prodotto eh tra l'altro che poi viene portato in tavola e quindi questi 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 baiti loro tradizionalmente vengono chiamati in questo modo possono essere in parte appunto riservati anche a creare dei anche dei micromusei etnografici dove si vengono raccolti vecchi attrezzi per far vedere come è cambiata anche o cosa è rimasto no? la la permanenza dell'arte eh in questo caso mobiliare legata a un lavoro che è quello appunto dell'agricoltura di montagna eh in questi eh terrazzamenti. Per quanto riguarda la seconda domanda mi trovi come ti ho già anticipato perfettamente d'accordo per cui si stanno cercando anche pensando ad altri tipi di ehm eh come si dice valorizzazioni quindi non soltanto candidare appunto il paesaggio evitato e terrazzato in questo caso che è già stato fatto a patrimonio unesco ma cercare degli altri tipi di riconoscimenti magari più 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 micro nel senso che sono molto specifici per far sì che appunto non diventi tutto come hai detto giustamente tu un calderone ah ecco ok ho un patrimonio unesco e allora si sa no? ehm per cui appunto cosa poi rimarrà fuori solo cosa non conteremo sulle dita delle mani cosa non sarà patrimonio unesco a questo punto. Poi fermo restando che è giusto valorizzare il bello che abbiamo nel nostro paese. Noi abbiamo un paese in effetti una nazione talmente fortunata da questo punto di vista che forse non ce ne rendiamo conto per cui sarebbe tutta l'Italia sarebbe patrimonio a parte certe piccole brutture che o certe brutture eh causate anche un po' da eh certe antiche no? Eh incapacità di governance eh che però abbiamo ereditato la nostra generazione la mia e la tua è ereditato ehm e quindi ecco la cosa interessante potrebbe essere la creazione di altri tipi di marchi no? Eh che possono comunque veicolare come dicevamo prima un un marketing o un turismo eh che faccia che sia rispettoso che faccia capire dove sei cioè non c'è bisogno solo esclusivamente del bollino unesco per rispettare no? Un ambiente un ambiente antropico e naturale no? Nel contempo. Potrebbero esserci degli altri marchi che magari valorizzano davvero in pieno in maniera specifica quel territorio. Difatti una delle cose che sta seguendo la Val Dicembra e che noi abbiamo seguito accanto diciamo perché ci siamo incrociati come progetti il progetto Gias che è quello appunto del paesaggio terrazzato eh che è appunto non è riconoscimento unesco è un'altra cosa eh e lì prevede un coinvolgimento proprio diretto delle comunità che devono ripensare al proprio futuro quindi a come eh in qualche modo in modo partecipato eh costruire anche il futuro del paesaggio terrazzato e quindi non soltanto di quello vitivinicolo cioè ecco l'altra domanda perfetto grazie mille eh l'altra domanda e mi hai solleticato su un altro tema che io conosco da diciotta anni ed è quello legato eh hai parlato di micromusei di musei diffusi e quindi la domanda sorge spontanea state pensando anche a decomusei musei diffusi e qual è il loro rapporto perché a questo punto a seconda di come lo costruite potrebbero diventare delle sovrastrutture che devono poi saper collaborare con la comunità e in alcuni casi posso dirtelo personalmente al ne ho visto uno che dopo diciotta anni ne sono uscito ha perso la trebisonda cioè ha perso il collegamento con il la comunità proprio in prossime puntate avremo l'opportunità di parlare su aprile con un altro ecomuseo che è partito dicendo eh la comunità è la base ma faccio dei servizi tra virgolette sociali non c'è più il servizio culturale allora ti chiedo come state pensando di sfruttare questa opportunità? Anche questa domanda è molto importante quella appunto questo argomento poi in Trentino in effetti il patrimonio ecomuseale è diffuso nel senso che ha avuto la provincia una certa lungimiranza di sostenere la creazione e poi anche il mantenimento di tanti micromusei più che etnografici proprio direi proprio ecomusei quindi non c'è soltanto etnografia ma c'è anche natura ma c'è anche appunto cioè ogni museo ogni piccolo museo racconta la sua vallata racconta il suo piccolo territorio quindi un turista in Turia potrebbe fare anche due settimane di eh visita eh di questi luoghi e si veramente si porta a casa il senso profondo del Trentino della sua storia e della sua attualità quindi anche qua in Val Dicembra l'idea appunto poi non è partita da noi ma è partita dal percorso partecipato che si è concluso proprio alla alla fine di gennaio eh c'è anche 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 da loro c'è questo interesse ma eh ovviamente noi come anche facilitatori come persone comunque eh informate no ovviamente abbiamo suggerito questo non deve essere calato dall'alto perché questo fa tramontare qualsiasi iniziativa ma deve essere proprio una volontà sentita da eh il territorio o una parte della comunità che si impegna e una delle parole fondamentali per far sì che un progetto funzioni come quello di un ecomuseo è l'impegno eh e anche in questo caso i cittadini come dire quelli più attivi eh si sono dichiarati molto interessati a eh come dire confrontare la loro esperienza con quelle già ben avviate che ci sono appunto in Italia e in Europa per non commettere come dire gli errori classici che si possono fare quindi partire già con un vantaggio no come si diceva a scuola quindi hai parte già con un micro un'idea della domanda che la prof ti può mettere in non che copi che non è il copiare ma sei già preparato hai approfondito quell'argomento così che appunto si può guadagnare tempo perché purtroppo in questo momento è proprio il tempo la cosa importante la cosa come dire che ci che ci blocca cioè il fatto che le persone anche impegnate non hanno tutto il tempo del mondo il fatto che purtroppo le persone anche attive non quando andranno in pensione perché spesso si pensa a tanto tempo il pensionato è pensionato che già fanno tanto volontariato già fanno moltissimo però c'è necessità di un ricambio generazionale i ragazzi e questo è il grande problema anche qua anche nel nostro progetto quindi anche il coinvolgimento dei giovani che però giustamente quando ti dicono è però io devo anche andare a lavorare e i turni a seconda del lavoro che uno ne fa possono essere anche massacranti nel senso che lavori tanto e quando come dire tiri il fiato e devi nuovo di nuovo lavorare in maniera ci sono persone che riescono altre che invece fanno più fatica per cui l'idea è proprio quella di cercare di partire con un progetto che non abbia quelle difficoltà che poi fanno allontanare le persone ma che magari riesca già a partire con una base di criticità risolte quindi anche partire magari anche più lentamente ma arrivando a come dire a far come dire nascere il progetto abbastanza come dire ben ben strutturato in questo territorio talto da noi c'è una patrimonio interessantissimo legato alla rete di riserve la rete di riserve coinvolge una buona parte della val di cembra e quindi la maggior parte dei comuni che sono nel nostro progetto fanno parte della rete di riserve la rete di riserve come dicevi tu è un soggetto sovracomunale sovra la sovrastruttura quindi ecco lei la quale è capace infatti è emerso nel nostro percorso partecipato di far sedere a tavolo tutti le stakeholder e farli parlare assieme per non ci siano ripetizioni non ci siano che un comune fa una cosa e poi dopo un po' lo fa anche l'altro ma è la stessa cosa e questo hanno tutte le persone che noi abbiamo coinvolto nel processo partecipato hanno sentito un'esigenza primaria cioè un tavolo di lavoro condiviso per far sì che le progettualità vengano discusse insieme poi ognuno diceva io faccio questo pezzo tu fai questo e senza rubare niente a nessuno però in questo modo si come dire si sfrutta al massimo il tempo quel tempo appunto che ti dicevo essere veramente poco al giorno dopo le persone hanno bisogno anche di lavorare questo è un tips da portarsi a casa quando si progetta perché spesso da consulente di marketing territoriale è il guaio il tecnico non ti risolve quella problematica lì ti risolve tutto il resto ma quella problematica lì non te la risolve sei tu territorio a dover il tecnico si danna per cercare di farti parlare ma sei tutto il territorio che devi avere la voglia di parlare perché sennò è inutile perfetto ti andiamo avanti non ti fermo veramente possiamo dare un'occhiata appunto al dov'è così anche i nostri nostro pubblico che non ci segue dal trentino o che non ha mai visitato la val di cembra vede no con questa slide vedete allora beh è la provincia di trento è una valle che vi dicevo della provincia di trento qui è questa valle appunto si trova prendente al confine quindi è molto interessante anche la sua posizione perché ha una un confine con la l'alto adige ha un confine da un lato con un'altra vallata invece molto nota e molto come dire turisticamente strasviluppata che è la val di fiemme fassa da cui in effetti beneficia comunque di questo come dire vicinanza poi ha appunto un contatto diretto con il sud tirol che è l'altra provincia autonoma appunto della nostra regione che ha comunque perché dico che è interessante questo confine perché ha una modalità diversa di gestione del territorio una come dire gestione anche turistica diversa valorizzazione turistica diversa quindi e si trova a contatto con realtà che hanno già sviluppato un turismo antico il sud tirola un turismo ottocentesco tra l'altro proprio legato alle couraus al benessere tutto quello che dicevamo adesso ma loro lo facevano già all'epoca dell'impero asburgico quando i viennesi venivano a curarsi con l'uva la cura dell'uva appunto la le passeggiate le terme eccetera e poi il mondo ladino quello della val di fiemme fassa fassa in particolare che anche lì ha una alle regole quindi anche qui sono storie antiche che però ancora oggi sono molto attuali e possono permettere appunto questi scambi proficui culturali queste contaminazioni diremmo appunto noi antropologi che però sono contaminazioni che in qualche modo possono ispirare idee propositive e anche in qualche modo trovare soluzioni che possono permettere alla comunità di crearsi appunto il proprio spazio perché ovviamente anche la val di cembra una delle cose che anche nei quindi di nuovo nel percorso partecipato è emersa è la ricerca di una sua specificità se no perché uno deve venire lì giustamente sono un val di fassa no uno va in alto adige uno va in un'altra vallata nel trentino loro la comunità si chiedeva dobbiamo trovare il motivo ma deve essere prima nostro è vero non puoi fare una cosa anche qua la vetrina non ci credi muore dopo pochissimo quindi loro sono stati molto intelligenti a dirsi e a dirci dobbiamo trovare un senso nostro della valle se noi lo troviamo poi lo spieghiamo agli altri e sicuramente sarà di effetto di impatto di interesse ehm su questo tema ti rubo veramente un secondo legato al fatto che eh proprio la scorsa volta con Claudio Rossi abbiamo parlato del concetto di buyer personas e della modalità con cui vogliamo identificare il nostro consumatore che viene cliente potenziale cliente che arriva su un territorio se su un prodotto qualsiasi una penna piuttosto che la questione diventa difficile sul territorio diventa molto più facile se la introiettiamo cioè la facciamo introspezione su di noi cioè sfruttiamo quello che deve essere il nostro motivo e lo spieghiamo correttamente a chi deve venire cioè se vogliamo eh tante volte il turismo vaga nei meandri no delle delle grandi ipotesi ma in realtà spesso basta ragionare sulla ospitalità di base quella che gli antropologi effettivamente richiamano ospitalità che è quello con cui io spesso io arrivo dal mondo geografico economico ho sempre sentito dire e registravo come effetto ma oggi dopo dieci anni di impresa e avendo cambiato completamente visione da questo punto di vista posso dirvi è lì che sta la motivazione per cui si muove le persone non il contrario non è la spesa che smuove la gente è tutt'altro grazie mille hai detto tu è proprio quello che noi abbiamo sentito come esigenza primaria proprio dalla comunità dagli stakeholder ma anche dalle dei cittadini che sono stati coinvolti nel progetto appunto nel percorso partecipato quindi è vero cioè adesso finalmente si è fatto il passo corretto ehm eh seguendo la strada appunto che hai 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 riassunto bene tu e che sembra essere davvero quella più utile perché altrimenti di nuovo e qui anche in trentino si sono visti progetti magari calati dall'alto che dopo bellissimi eh però dopo poco tempo eh sono stati si sono come dire mortificati perché ovviamente il turista non trova più la corrispondenza no perché il cittadino l'abitante eh non era stato coinvolto non era stato in prima persona no ehm in qualche modo interessato per cui quando il turista andava dal macellaio per dirti no a comprare la carne piuttosto che a portarsi via un souvenir piuttosto che eh non gli veniva raccontato e per cui eh che senso invece facendo in questo modo anche il macellaio è coinvolto per cui ti dirà ah ma sei andato che ne so eh a fare l'esperienza della viticoltura oppure sei andato ad assaggiare e lì ecco che il turista si sente a casa si sente coinvolto nella comunità si sente parte della perché gli vengono come piccoli segreti no assolutamente l'errore grosso della visione che dicevo io è che a quel punto tu devi fare formazione per chiunque tecnicamente ma è impossibile fare formazione per chiunque fai formazione per il settore specifico per l'accoglienza perché deve migliorarsi perché ma al benzinaio non puoi metterti a fare formazione turistica perché non ha alcun senso perché lui giustamente ti dà il suo prodotto la benzina piuttosto che il macellaio che ti dà la carne se invece immettiamo il concetto del marketing territoriale corretto che è quello che eh da un po' presento ma è più presente anche tu in questo caso è quello di incuriosirlo cioè il il macellaio è indirettamente coinvolto nel suo mondo esatto perché se no non funziona ecco perché spesso si dice il marketing turistico è indiretto sì ma è sempre più diretto rispetto al marketing territoriale perché il marketing territoriale lavora sull'offerta l'offerta di turismo nasce anche quando non c'è turismo esatto finché non ragioniamo così non usciamo dalla problematica non per niente anche quando spiego ai miei ragazzi eccetera dico sempre marketing territoriale nasce anche quando non c'è se no è inutile andiamo avanti però perché se no ti rubo troppo tempo però ti dicevo appunto vedete qua le due le diciamo questa valle ha avuto un passato comunque ce l'ha ancora molto interessante anche dal punto di vista antropologico nel senso noi siamo attenti anche alla conflittualità e il paesaggio esso stesso mostra una una sua conflittualità e la vedete nelle due foto che abbiamo messo allora da un lato questo paesaggio vitato veramente bucolico e quasi appunto virgiliano è davvero molto bello però dall'altro abbiamo anche quello che ha fatto in qualche modo diventare ricca una parte della valle cioè l'estrazione del porfido e quindi sono due cose che sembra che non riescano ad andare assieme andare d'accordo il nostro in questo caso il progetto partecipato che abbiamo condotto ha cercato di far dialogare questi due mondi perché anche in questo caso se i mondi sono totalmente separati e la valle però è unica si rischia appunto di anche destabilizzare il turista che arriva invece se c'è un'idea comune e queste sono le peculiarità della valle allora anche una cava di porfido come giustamente ci hanno detto i nostri informatori coloro i quali hanno lavorato ai quattro incontri partecipati i cittadini può diventare un museo a cielo aperto la cava dismessa ci può essere una progettualità intelligente per far sì che anch'essa diventi un'attrazione turistica e non soltanto come dire una bruttura perché all'inizio anni passati venivano anche vissute dagli stessi abitanti allora anche qua è necessario un processo di riappropriazione del territorio di riconciliazione con il territorio perché solo in questo modo allora ecco che le forze e le energie creative nascono emergono e anche una cosa che fino a ieri era vista come deturpante può diventare un valore può diventare un qualcosa che può essere valorizzato magari anche spendendo poco per appunto risistemarlo ma la risistemazione è fatta in modo tale perché c'è stata una come dire appunto questa riconciliazione che dicevo prima che viene sicuramente viene fatta nel modo migliore per il territorio stesso per tutta la comunità e quindi anche qua è importante che si concilino le due come dire anime economiche della valle l'anima agricola vitivinicola e l'anima in questo caso estrattiva perché c'è ancora ovviamente in questo caso apro e chiudo velocemente la parentesi alcuni dei nostri partecipanti hanno proprio detto ma perché non fare anche un turismo di settore sugli ingegneri che vengono a vedere come si le nuovissime tecniche di è ovvio che l'ingegnere quando viene poi deve dormire deve mangiare deve bere per dire fa una passeggiata quindi viene per vedere comunque le ultime tecnologie innovative della cava però nel contempo si porta via anche il resto del territorio quindi tutte e due ne traggono vantaggio è una cosa che ti do così visto che un progettino sul territorio con le cave eccetera è stato legato alle sonorità della cava nel senso che ad esempio noi abbiamo un festival che si chiama tons of the stones che lavora su concerti diciamo così in cava se l'opportunità c'è cioè gli spazi eccetera ci sono e la sonorità della cava è molto interessante qui bisogna sentire magari qualche consulente musicista qualche amico che abbia un buon orecchio perché non ci devono essere rimbombi eccetera potreste sfruttarlo anche come vero e proprio anfiteatro così ci ricolleghiamo a turri e che diceva il paesaggio è l'anfiteatro del movimento della comunità esattamente infatti anche questo che tu mi dici io non lo conoscevo lo porterò guarda già da domani sul tavolo di lavoro perché potrebbe essere un'opportunità che nessuno ha pensato perché non è invece appunto fatta magari venendo a visitare i luoghi dove è stata fatta ci può essere questa continuazione contaminazione felice di nuovo anche in questo caso la cava dismessa piuttosto che diventa un soggetto attivo no per il territorio non più soltanto un qualcosa di passivo che il territorio adesso sta subisce perché un po è anche questa il sentimento della appunto delle persone che che abitano lì allora come ti dicevo ecco il registro nazionale dei paesaggi rurali storici questa è un'altra possibilità appunto anziché l'unesco tentare anche questa via è una cosa diversa no è una cosa più specifica in questo caso che può avere solo la val di cemera perché ha un tipo di storia che si porta appresso rispetto appunto a come dire cominciamo prima no la candidatura in sé per sé eh come patrimonio della dell'umanità e eh appunto quello che eh poi focalizzandoci un po sul nostro progetto pilota che appunto è stato finanziato come vedi dall'interragadrion ehm è questa ehm come dire possibilità che diamo al che viene data con i appunto i bandi il band europeo con il finanziamento europeo ha questa valle di tentare in alcuni eh come dire ehm aziende pilota eh una transizione agroecologica del vigneto la ovviamente la la transizione agroecologica anche qua c'è spesso un po' di confusione non vuol dire fare biologico no assolutamente è un concetto sudamericano del mercato appunto nel in quello che veniva chiamato una volta eh terzo mondo ma che terzo mondo come si vede non è perché hanno pensato soluzioni molto intelligenti che adesso noi stiamo rincorrendo allora dove sta questo vecchio appunto antiquato modo di dire eh da ventesimo secolo un po' conquistatore terzo mondo appunto dicevo che in in questi in questi altri terre che sono anche lì molto hanno necessità di trovare delle strategie no vincenti anche per la popolazione per la sussistenza della popolazione ehm gli agronomi degli agronomi hanno eh ideato questo concetto appunto l'agroecologia eh che è un modo per come dire ricreare un ecosistema micro ecosistema all'interno di un'azienda agricola per cui anche se tu fai monocultura in questo caso uno dice io ho l'azienda di vigne puoi mettere degli accorgimenti all'interno del tuo vigneto che magari occupa la gran parte del tuo territorio dei tuoi ettari che hai puoi mettere degli accorgimenti che permettano a poco a poco quindi anche qua è interessante il fatto che l'uomo fa una parte ma è dopo è la natura come dire è la è la simbiosi no con il mondo esterno l'ambiente esterno che fa arrivare chi deve arrivare per cui se si mette una siepe che magari ti serve anche come barriera antirumore eh per preservare di più le tue vigne perché magari sei accanto c'è un passaggio dell'unica strada no provinciale che sale quella siepe tra un pochissimo tempo sarà piena di insetti di farfalle di uccelli che tra l'altro servono alla tua vigna per dare dei concimi naturali cioè è tutto una specie appunto di grande cioè l'idea è di pensare l'azienda agricola come un ecosistema vivente dove non c'è il totale sfruttamento no lo sfruttamento che noi abbiamo fino a ieri no nella 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 monocultura eh noi abbiamo della terra ma c'è un ricircolo una una circolarità per cui ci sono ma gli accorgimenti sono quasi a costo zero perché lo che dicevo che pensati in quel mondo che non ha risorse non ha soldi perché nessuno ci ha investito eh sono sicuramente fattibilissimi perché costano poco mettere una siepe costa pochissimo lasciare come dire un po di sfalcio costa niente fare il sovescio in un certo modo mettere la lana di pecora eh per fare da fare invece del diserbante perché la lana di pecora non fa crescere no e ti preserva quindi la tua la tua pergola piuttosto che magari mettere un'arnia di una di un po di api eh ti permette appunto di avere miele in questo caso mettere un albero da frutto che ombreggia quindi lasciarlo rigoglioso raccoglie anche la frutta e magari ci fai le marmellate che poi le vendi quindi non vendi quello che noi abbiamo un po suggerito ai contadini anzi a questi imprenditori del settore agricolo no eh è questo che possono trarre ulteriore guadagno con delle scelte micro proprio perché ripeto sono state testate in luoghi dove veramente non avevano niente upselling e cross selling quindi aumento le vendite le le allargo e in più polifunzionalità che su questo tema della montagna in sé perché poi stiamo parlando comunque di una ballata e quindi eh della montagna è passatemi il termine senza offesa è il contadino di qualche anno fa che doveva fare tutto in montagna quindi non la polifunzionalità non è cambiata eh nel tempo abbiamo perso e qui tu meglio di chiunque altro da questo punto di vista antropologico puoi spiegare questo concetto però adesso ci rendiamo conto che dobbiamo tornare a quella polifunzionalità no io recentemente sarò a brevissimo a Sondrio però per un ifts specifico sulla montagna 4.0 che molto probabilmente ne hai sentito parlare e caspiterina anche lì qualcosa sto proponendo ai ragazzi che dovranno fare comunicazione di imparare a guardare la polifunzionalità di questo mondo perché tu dovrai comunicare questa polifunzionalità esattamente esattamente e in questo caso eh come giustamente questi agronomi che hanno ideato no questi questa tecnica appunto agroecologica eh ne beneficia non soltanto appunto il prodotto no come hai detto te giustamente vendi cose diverse diversifichi tra l'altro e quindi la polifunzionalità come c'è tu ma anche ne ne ha un grandissimo vantaggio il paesaggio per cui anche qua noi abbiamo e questo ce l'hanno detto anche gli attori appunto se su ognuno allora il paesaggio è un mosaico se ognuno tiene bene la sua mattoncino il suo tassello del mosaico viene uno spettacolo è ovvio che quando tu vedi un paesaggio che non ti lascia così a bocca aperta e quando non tutti come dire governano il proprio tassello in modo intelligente quindi in modo costruttivo utile no e allora ecco che ci sono cioè noti di più il contrasto eh ovviamente tra magari chi abbandona eh un un campo piuttosto chi lascia magari anche dei rifiuti ecco eh della lavorazione e chi invece lo me lo tiene come se fosse un piccolo presepe allora l'idea appunto di muovere la coscienza comunitaria per far sì che ognuno e quindi non c'è uno sforzo totale cioè non c'è uno sforzo enorme del comune che deve investire eh come dire tantissimi euro per pulire il proprio territorio perché se ognuno fa anche la propria parte privata che è la sua casa eh come dire no e la considera proprio come la sua casa ne beneficiano tutti e ne beneficia soprattutto il turismo che viene e trova qualcosa di bello da vedere no bello è qualcosa che davvero tu eh rimani e dici cavolo wow no un un paesaggio che ti lascia anche coinvolto eh dal punto di vista emotivo perché il turismo è anche questa cosa qua cioè non dobbiamo come dire avere vergogna a dirlo cioè tu devi anche emozionare le persone se no per quale motivo te devono tornare poi cioè non vuoi fare un turismo che di uno viene una volta cioè una volta che come dire non avrai mai sei miliardi di persone che o otto miliardi quanti siamo che vengono tutte lì tu devi avere la possibilità di e questo l'hanno detto anche loro affezionare il cliente affezionare il cliente la possibilità turistica vuol dire affezionarlo sia a comprare il tuo prodotto ma affezionarlo anche a ritornare a vedere il tuo posto dove vivi come stai assolutamente tra l'altro qui ehm dopo ti lascio andare avanti hai parlato di di affezionato eh ovviamente fedeltà effetto wow che parlavi prima tips che ci portiamo a casa concetto di paesaggio come mosaico caspiterina perché se no eh torniamo ad avere quelle forme maculate dove sì è bello qui ma di là non posso andare e allora cosa faccio effetto cartolina prendo solo le cose belle poi quando arriva il turista in destinazione si sente preso per i fondelli perché guarda la cosa bella la cartolina e appena giro lo sguardo non trova quello che si aspetterebbe una continuità del bello su questo sono molto d'accordo di fatti anche jacob che è un antropolo del paesaggio eh ha scritto proprio di questo che abbiamo abusato di questi paesaggi la cartolina per cui il turista adesso è stufo ma in tutto il mondo eh lui parla in tutto il mondo per tipo l'atollo appunto tropicale cioè c'è anche il risvolto della medaglia cioè i tristi tropici le ristrosse eh e a furia di far vedere solo atolli da cartolina poi dopo appunto abbiamo il il disastro no eh della delle di quelle zone appunto tropicali quindi assolutamente sì eh appunto anche in questo caso la transizione agroecologica vuole portare a creare un paesaggio vero non vetrificato non cartolinato nel senso che tu ce l'hai lì scatti la foto e poi dopo ma è un paesaggio in continuo mutamento tra l'altro quindi ti viene voglia di vederlo d'autunno di primavera d'inverno quando cade la neve e anche d'estate così ecco e qui in questo modo in teoria tu porti il turista quattro volte a casa tua e non una volta sola quando c'è come dire la cartolina cioè il paesaggio perfetto qui consiglio utilissimo che ti posso dare adesso visto che è proprio recentissimo sono stati presentati deep trend dal TTG Italia e il primo deep trend basilare proprio la base di tutto la costruzione è il muta forma quindi se non se non seguo il muta forma perdo opportunità incredibili quindi portarsi a casa nella piccola valdicembra il concetto rigolette è ovvio di continuare a seguire come muta la natura già solo quello insieme alla sostenibilità che è un un deep trend iniziato già più di dieci anni fa e che che continua a esserci ovviamente tutti questi deep trend hanno una crescita un po come tutti i cicli di vita di battler no per cui piano piano sta lasciando il posto per qualche cosa altro e quel muta forma lì ce lo ritroviamo nel concetto di se la valdicembra riesce a diventare il posto rifugio avete fatto bingo signori esatto questo regalo proprio così se non l'avevi già sentito questa cosa te la te la do perché è proprio grazie quindi lavorate sul concetto che la valdicembra deve diventare il rifugio per la scoperta di qualcosa che non conosco questa viticoltura di questo tipo che si connette a un deep trend che è in continua mutazione cioè io seguo la vita della vite e così riesco ad avere un cambio di forma esattamente e quindi questo mi sembra proprio una cosa eccezionale cioè se si riuscisse davvero a realizzare potrebbe rivalorizzare appunto scusa il gioco di parole questa valle che in effetti è una valle che come dire fino a pochissimi anni fa e ci sono le testimonianze anche delle persone più anziane era una valle di fatica era una valle come dire dove la gente appunto non non riusciva a quasi arrivare a sera molto come dire difficile da vivere invece in questo modo potrebbe essere raccontato sia questo perché è giusto sapere da dove vieni no come dire mantenere anche una sal delle tue radici però dall'altro lato far vedere come si è sviluppata e adesso appunto vado avanti anche molto velocemente giusto per far vedere appunto il percorso che abbiamo fatto come vedi le parole che abbiamo usato nella nostra chiacchierata fino ad ora ritornano vedi ritornano tutte che sono i concetti chiave del progetto no che ruotano al paesaggio perché il progetto ovviamente è incardinato non sulla vite ma sul paesaggio perché così funziona come dicevi tu quindi un paesaggio multifunzionale polifunzionale e in questo caso come giustamente detto tu anche muta forma che mi sembra una la parola aggiuntiva che aggiungiamo e portiamo a casa da questa da questa serata e appunto la partecipazione senza di questa abbiamo detto all'inizio qualsiasi progetto crolla qualsiasi progetto non ha non ha senso e quindi anche in questo caso per far partecipare le persone ovviamente abbiamo chiesto la loro esperienza perché ovvio bisogna partire dalla loro voce per poi come dire fare delle considerazioni teoriche più alte più larghe per cui come vedi di una come dire semplicità estrema no capire cosa è per loro bello e brutto piacevole spiacevole vero falso nel paesaggio buono e cattivo utile e dannoso è un po proprio questo che abbiamo abbiamo chiesto no abbiamo fatto questi quattro incontri e c'è stata una bella partecipazione da parte di tanti tipi diversi di persone quindi con tanti ruoli gli agricoltori gli imprenditori agricoli poi c'erano le amministrazioni che appunto hanno potuto dialogare insieme no eh c'erano appunto come ti dicevo anche la rete di riserve quindi coloro che si occupano anche del patrimonio naturale no della difesa c'erano gli operatori del turismo bed and breakfast alberghi ristoranti ehm e c'erano anche dei semplici cittadini come dire eh interessati amanti del loro territorio quindi coloro magari avevano nozioni storiche no di storia locale eh di usi e costumi hanno messo come dire la cosa interessante è stata il fatto di mettere eh a conoscenza tutti gli altri di questi patrimoni personali e in questo modo questi patrimoni anche qua non è che ognuno ha raccontato il modo con cui abbiamo lavorato appunto con i facilitatori che hanno fatto un concorso per poter eh giustamente facilitare questi ehm questi incontri ha permesso di far emergere naturalmente senza noia questi saperi e di incrociarli per poi arrivare alle conclusioni no eh e quindi eh in questo caso salto un attimo i dialoghi con le eh ma mi sento perché volevo far vedere appunto un po' la bellezza di questo percorso partecipato no all'inizio hanno fatto un lavoro individuale quindi hanno abbiamo chiesto a loro quello che hai detto prima cosa ti piace cosa eh invece non ti piace per niente della tua valle no eh che cosa pensi che abbia un potenziale quindi ecco qua la visione di futuro perché senza questa non vai da nessuna parte eh e loro hanno scritto dei bigliettini personali e poi li hanno collocati sulla carta qui si vede forse poco questa è la carta della loro valle loro la conoscevano perfettamente e hanno messo anche qui da parte mia come antropologa osservavo perché io facevo l'osservatore ovviamente del del processo osservavo la bellezza dei toponi in dialetto per cui le persone si capivano con una parola e sapevano dov'era questo posto ma quasi altro che gps ancora di più quindi questo è anche qui se tu valorizzi questo in chiave turistica il turista diventa matto cioè eh come dire perché lo metti lo rendi partecipe del tuo patrimonio intimo culturale e in questo modo tornerà tornerà perché vorrà conoscere come hai detto tu ancora no conoscere sempre di più quindi anche questa modalità di lavoro ha favorito la riemersione no di questo sapere molto anche magari da bambini no molto molto antico nelle persone che però si sono molto ritrovati li ho viste felici quando collocavano il bigliettino e nel posto preciso e dialoghavano perché magari due avevano avuto da un tipo della sala la stessa idea con lo stesso toponimo e quindi anche qui riconoscimento identitario identità non è una brutta cosa anzi della della del proprio territorio del proprio ambiente qui come vedi appunto i tre colori diversi no le le quattro scusami eh colori diversi che abbiamo utilizzato e poi loro vedi che discutono no che scrivono che mettono per l'iscritto eh appunto delle parole chiave per farci capire la loro discussione attorno a a questi eh a queste carte e poi una restituzione a tutti gli altri praticamente lavorando in gruppo c'è la necessità della 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 condivisione ma un eh anche qua vedi che sono stati sono emersi eh questi elementi la cosa interessante è che alcuni elementi si trovano in più luoghi come ti dicevo prima questo è il caso più eh come dire eclatante da un lato l'elemento disturbante è potrebbe essere la cava come appunto eh ti dicevo no però la cava si trova anche negli elementi da valorizzare elementi che possono dare un valore raggiuntivo alla alla valle in questo caso vedi cave come opportunità quindi diventa l'analisi SWOT auto organizzata praticamente esattamente quindi se loro per primi si rendono conto del valore basta è giocata nel senso che poi anche un turista capisce il valore di questa di questa cosa che all'inizio può sembrare brutta appunto può essere un elemento disturbante poi l'altra cosa veramente bella che è piaciuta molto è il lavoro che abbiamo fatto sulle fotografie allora la fotografia è molto coinvolgente no lì l'ho un po' condotta io perché come antropologi usiamo spesso la foto di citation come appunto modalità per far riemergere e anche qua loro si sono resi conto di quanto è cambiato il loro paesaggio storico avevamo foto quelle appunto eh le coppie di foto sono la foto antica eh fatta anche da grandi autori della fotografia trentina come i fratelli Pedrotti o Faganello che sono veramente degli artisti no noti eh Faganello ad esempio è molto noto per chi conosce le Alpi perché ha fatto tutti i reportaggi insieme a Gorfer Aldo Gorfer quel giornalista straordinario che ha raccontato davvero tipo uno dei suoi libri più belli è gli eredi della solitudine ha raccontato proprio questi masi arroccati che fino agli anni sessanta non avevano neanche la strada che le raggiungeva bambini che andavano a scuola sotto la tormenta di neve cioè giusto per far capire un piccolo mondo antico Faganello gli faceva le foto allora anche qua abbiamo foto veramente di pregio noi siamo andati noi facilitatori siamo andati a fare le foto oggi nel senso due giorni prima dello stesso paesaggio cosicché le persone hanno potuto poi pasticciare appunto queste foto con i pennarelli e mostrare vedere appunto gli elementi che sono cambiati anche in questo caso loro non ci avevano mai pensato perché anche qua il paesaggio che tu hai di fronte tutti i giorni che hai sotto gli occhi non riesci a notare i cambiamenti perché ovviamente questi cambiamenti sono molto lenti molto piccoli se invece li guardi da un come dire da 30 anni prima 30 anni dopo e ti rendi conto invece no e anche in questo caso loro sono rimasti senza parole su come certo tra l'altro interessante questa cosa fotografia diciamo così fra virgolette ieri e oggi ok perché anche gli obiettivi sono diversi cioè i vari fotografi di un tempo utilizzano le lastre di vetro piuttosto che la pellicola eccetera e avevano obiettivi specifici rifare la stessa identica foto oggi è praticamente impossibile o comunque devi arrivare a dei compromessi e già solo questa visione quando metti a mirino l'occhio e ti dice che c'è già un cambiamento in atto già solo in quella ottica lì e quindi abituare poi le persone a ragionare su questi cambiamenti porta alla visione di come non solo è cambiato il paesaggio ma di come io devo prendere coscienza di questo cambiamento esatto perché senza questa presa di coscienza per me il territorio è un qualcosa che è come un gioco un lancio di dadi piuttosto che un puzzle che però posso cambiare a mio piacimento e no perché ogni volta che io trasformo trasformo l'intero ecosistema non solo il pezzettino che ho preso e lo posso danneggiare talmente tanto che posso anche non poterlo più ricostruire esattamente 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 proprio questo e hai in qualche modo proprio riassunto la fatica che abbiamo fatto per alcune foto sono andata anch'io a farle della impossibilità di trovare lo stesso come dire angolazione punto di vista anche perché mancavano i riferimenti alcuni grossi riferimenti non c'erano più perché sono sono mutati oppure in un caso un bosco ha completamente coperto la visione quindi noi abbiamo fatto una salita senza ottenere la foto in effetti perché sapevamo dove l'avevano fatta abbiamo tentato di andare sullo stesso punto ma non era infattibile perché eravamo nell'intrico della foresta quando invece prima il monte era completamente vuoto e quindi vedevamo la piana agricola sotto quindi anche in questo caso ci siamo resi conto anche noi stessi che non abitiamo nella nella zona di quanto sia veloce anche in questo caso nel tempo storico ecco intendo non umano perché ovviamente eh i quattro decenni come come il bosco in quattro decenni abbia creato un intricotale che non è più visibile appunto quello che si cercava eh e che prima non non c'era appunto il l'altra cosa interessante poi è stata far riflettere questi gruppi sulle foto di oggi anche qua abbiamo preso delle foto quindi 16 foto eh fatte nel 2000 tra il 2020 poco prima della pandemia dal 19 fino al 22 perché le ultime le avevamo fatte le settimane prima e abbiamo sollecitato le persone a riflettere su queste parole chiave che vedi nella nella nei fumetti eh per cui cercare una foto che fosse rappresentativa dello scenario che però mantenesse la biodiversità e quindi come vedi no le parole chiave salute benessere una foto invece legata alle risorse alle sinergie però non le risorse in sé eh e alle interazioni una foto invece che manifestasse i valori e l'opportunità di questa valle e una foto anche qua vedi un'invenzione costruzione di uso prospettiva no oggi domani anche qua ci hanno stupito nel senso che hanno scelto tre foto poi in plenaria siamo arrivati a una foto ma la cosa interessante è che mh alcune foto come questa vedi ci sono in tutti quindi vuol dire che questa foto è rappresentativa al cento per cento della valle e che cosa c'è in questa foto c'è che poi eh vediamo se eh no forse non riusciamo a vederla eccola qua c'è la visio che è l'acqua il torrente no quindi no la madre eh in effetti l'acqua è la strada la viabilità questa ciclabile che loro vogliono creare questo percorso che vuole percorrere tutto perché ovviamente è come il sangue no l'acqua la fiume e la parte di vigneto è la parte un po' anche naturale che ha il perché vicino al torrente ovviamente hai sia una parte vitata ma c'è anche una parte lasciata a se stessa no quindi in questo caso le persone hanno riconosciuto il il valore fortissimo no di questi grandi eh patrimoni che loro hanno nel contempo nella stessa valle eh è diventata un po' la foto come vedi manifesto eh poi abbiamo chiesto anche ovviamente di darci scusami la l'immagine invece brutta eh perché cercavamo anche di capire se ci fosse qualcosa che non andava in effetti tutti i gruppi hanno focalizzato su un problema che c'è in tanti posti del Trentino ma penso anche in altri posti d'Italia montana eh dove spesso quello che abbiamo detto già prima non c'è la cura del proprio per cui magari si lasciano lì si abbandonano gli attrezzi eccetera e quella cosa è quella che dicevi te no la cartolina da una parte e poi ti giri allora tutte le persone che c'erano hanno detto bisogna fare questa educazione se ognuno fa come dire viene educato alla cura del proprio tutti ne gioiamo e su questo hanno perfettamente ragione è una cosa pensa che io sento in Trentino da un decennio per lo meno quando lavoravo in Val di Gresta un'altra valle che aveva anch'essa queste contraddizioni no l'orto botanico più bello del paese ehm perché il come dire è l'orto biologico del Trentino da 40 anni però con ogni tanto ti giri e ci sono c'erano queste piccole brutture anche lì il comune poi ha intrapreso un'opera di educazione alla bellezza in questo caso e alla cura perché poi è cura è cura è come se tu non vuoi la spazzatura in casa tua no giustamente quindi perché anche in campagna è da posto quindi anche quello su quel tema ti fermo solo un secondo perché uno degli rischi di questa cosa la dico così ovviamente tu ci hai già pensato però io la devo dire perché effettivamente quando siamo in diretta cerchiamo di portarci a casa il più possibile occhio al not in my backyard cioè non nel mio giardino il rischio grosso di questi interventi di territorio quando si incomincia a incasellare tutti i sistemi e sembra filare e che qualcuno si alzi e dica non nel mio giardino potete fare tutto ma non nel mio giardino e questo poi crea il grande problema di dover ritessere la tela per riuscire a riportarlo di nuovo e sarà sempre un punto nodale critico questo lo dico perché effettivamente in tanti progetti si è dovuto fare tra virgolette pressione perché questo nodo dovesse reggere comunque ma sul lungo periodo anche la pressione più buona possibile immaginabile e felice di dds torna fuori quindi io ecco l'unico rischio che ti do di questa presentazione insomma è questo proprio perché purtroppo l'ho vissuto anche come come consulente ed è un problema grosso che che abbiamo in italia cioè il concetto che poi a un certo punto prima o poi salta fuori questa idea per cui sì sì va bene va bene però non farlo da me e le infrastrutture una serie di cose devono essere eh visto che parlavi di eh collegamento se dovesse essere una greenway eh un modo per girare la la val di cembre in bicicletta adesso dico così una cosa che potrebbe non essere fattibile il il rischio è che la si presenti sì sì però e poi sotto sotto si comincia a muore quel sistema lì e lì è il è il grande guai ne ho visto una recentemente che è inchiodata per quel tema lì certo infatti è uno di infatti è uno dei grossi rischi come giustamente dici tu anche lavoriamo anche come appunto nel sociale quindi nelle scienze umane eh abbiamo abbiamo visto anche eh bloccare territori per anni interi per lungo tempo no è un peccato perché tanta energia buona poi si dissipa eh per queste eh micro conflittualità allora anche in questo caso qui spezziamo una lancia per le nostre no la nostra disciplina possiamo intervenire noi come antropologi sociologi o comunque chi di noi ha un minimo di esperienza di facilitazione per cercare di eh in qualche modo suggerire una risoluzione degli strumenti di soluzione di questi micro conflitti eh perché altrimenti è vero non vai da nessuna parte questo è un gran peccato eh quindi anche qua anche anche qui c'è altissima l'attenzione su questo rischio perché loro ci hanno già raccontato che è già successo negli anni passati no? Eh purtroppo spesso nelle progettazioni per tutta una serie di motivi anche banali il progetto finisce devo portare risultati si spiana di brutto per arrivare in fondo come suol dire e poi però rimangono in giro delle piccole macerie io le chiamo le piccole macerie da da progetto no? Per cui poi dopo quando è il momento che riparte una seconda progettazione e dici ok lì l'avevamo lasciata ferma adesso la prendiamo in mano ma è passato quel poco tempo o tanto tempo a seconda che però poi non ti permette più di di mettergli le mani addosso perché effettivamente la paura è quella che ecco adesso dove me la sposti quella macerie? esatto 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 allora adesso proprio perché non vogliamo annoiare il nostro nostro pubblico appunto vado avanti abbiamo poi fatto appunto questo il terzo incontro purtroppo ecco anche qua il terzo incontro e il quarto si sono svolti in periodo pandemico cioè nel senso quando c'erano delle restrizioni maggiori in Italia cioè in gennaio e ovviamente la pandemia era un po' più forte quindi abbiamo dovuto farle online e non più in presenza anche qua è stato interessante dal mio punto di vista cioè quello dell'osservatore antropologico vedere anche come le stesse persone reagivano nei confronti della tecnologia devo dire la verità che pensavamo peggio nel senso pensavamo che non riuscissimo a ottenere il coinvolgimento invece le persone si sono davvero erano talmente motivate alla partecipazione che hanno un po' superato anche questa barriera difficoltosa del fare le cose online e quindi abbiamo chiesto in questo caso una cosa di futuro che cosa vorresti trovare in valle di positivo tra dieci anni e l'abbiamo fatto questa volta suddividendo come vedi ci sono gli agricoltori il gruppo commercio artigianato e turismo e il gruppo delle istituzioni e poi dopo li abbiamo fatti dialogare insieme per vedere appunto prima una scrematura come dire per settore e poi dopo i tre settori che trovando appunto le temi chiave hanno dialogato appunto insieme e poi dopo la seconda domanda invece abbiamo fatto una cosa diversa i gruppi eterogeni quindi c'erano due agricoltori, due amministratori per dirti tre o quattro del settore turistico e anche qua di nuovo è un esercizio di futuro che cosa possiamo fare oggi per fare in modo che quel cambiamento sia possibile anche qua sono emerse delle interessanti risposte da parte delle persone ti dico interessanti risposte perché hanno risposte vere non erano le frasi fatte cioè quello che io ho notato molto appunto che dicevo il coinvolgimento la servietà di questi partecipanti è stata data da queste cose nel senso che le proposte che loro hanno fatto sono fattibili, concrete non hanno sognato la luna che sappiamo che poi dopo vuol dire che fai questi incontri e non servono a niente le persone sono state molto sul concreto per cui queste azioni che loro hanno pensato si possono iniziare a fare dopo domani questo è secondo me il bene utile per questa comunità perché quando poi come dire pensi a cose che ti servono un milione di euro per finanziarle dove li trovi no? è follia nel senso è meglio neanche che sai iniziare invece sono stati molto intelligenti perché c'è stata appunto in tutti e tre i gruppi un'idea di fare cose concrete e anche a costo abbastanza contenuto in sé che loro sono coscienti di dove stanno che risorse hanno che risorse possono chiedere alle istituzioni più grandi provincia eccetera eccetera per dirti no e quindi anche qui è stata fatta da parte loro un'operazione di concretezza utile al percorso appunto anche di sviluppo turistico della valle su questo punto hai percepito l'idea iniziale cioè il concetto è loro sono risultati molto concreti ma questa concretezza era già tra virgolette innata o è stata preparata tra virgolette magari qualche ente che piano piano ha cominciato a costruire questa concretezza e poi è accelerata attraverso il progetto oppure no era già innata erano già hai ragione allora non è stata costruita perché loro i progetti così non ne hanno mai fatti cioè non c'è niente anzi era proprio è stata scelta la Val di Cembra come area pilota proprio perché è una delle valli che ha più bisogno di altre per questo quindi era da un lato innata nel senso che era spontanea questa loro perché come dire preparata comunque dagli altri due incontri dove loro hanno continuato a ragionare in maniera molto concreta nel senso ragionare su quello che avevano sulle loro potenzialità senza andare appunto a immaginare cose infattibili quindi erano già un po' pronti a rispondere a questa domanda nel modo più utile in questo caso anche per il progetto però dall'altro lato anche loro stessi visto che si sono resi conto delle potenzialità e del fatto che nessuno le avesse mai valorizzate in un certo modo hanno proposto passi concreti, piccoli volti ad andare in quella direzione quindi piccoli passi che però costruiscono una montagna piuttosto che il passo lungo che ti fa cascare in mezzo al baratro e anche questo io ho apprezzato molto la maturità della comunità in questo caso che si è autocosciente dei propri limiti anche per una storia pregressa e però dall'altro lato non vuole esagerare ma vuole fare passo dopo passo anche questo come dire è una caratteristica che io ho apprezzato molto nelle persone che sono coinvolte e che hanno appunto hanno capito che non si può come dire no non si può avere l'eldorado perché è appunto è un miraggio tempi non sono più quei tempi lì e soprattutto se io incomincio a ragionare concreto e con quei pochi passi che posso fare molto probabilmente di strada pur poca che ne possa fare la farò mentre se aspetto che arrivi qualcosa dall'alto difficilmente funziona anzi quasi male l'ultimo incontro è stato quello ancora più intrigante dal mio punto di vista anche perché per me era la prima esperienza cioè quello di allora l'idea che se fossero stati in presenza avremmo fatto probabilmente tu conosci questo strumento perché si fa i marketing il World Cafe purtroppo non l'abbiamo potuto farlo perché eravamo online però abbiamo tentato di trasformare un World Cafe online senza il caffè praticamente ognuno aveva la sua tazzina di casa comunque abbiamo creato queste tavoli dove loro hanno riflettuto su appunto tre assi l'asse della formazione e dell'interazione l'asse della scusami della valorizzazione e promozione del territorio e poi l'ultimo asse era quello della struttura e infrastrutture utili per la comunità e qui anche qua è stato bello perché vedi la quantità di foglietti che sono stati portati tutti hanno voluto partecipare quindi tutti hanno girato i tavoli come se fosse un World Cafe vero portando un loro pensiero una loro aggiunta si sono inseriti nella discussione che il facilitatore appunto stava compiendo con rispetto rispetto alle idee dei precedenti frequentatori del tavolo che anche questo non è scontato e anche con grande attenzione ad ascoltare e a come dire mantenere le idee di tutti nel senso non essere come dire soverchiare ecco e hanno tentato anche di far emergere qui si vede un po' nelle restituzioni vedi qua le parole chiave appunto sinergia non solo vino quello che abbiamo detto prima come vedi la comunicazione ma non c'è formazione nel consumatore quindi bisogna fare questo perché altrimenti non vai da nessuna parte la realizzazione di attività formative permanenti quello che dicevamo prima quello che dicevi te e questa cosa non è emersa da noi è emersa da loro quindi nessuno li ha imboccati quindi è un'esigente importante che loro hanno sentito e quindi se vedi che sono piccole azioni perché cosa costa un'attività formativa permanente è una cosa piccola micro che si fa nel territorio la possono fare anche tra loro perché ci sono persone esperte quindi non devi spendere un milione di euro per fare formazione e quindi anche qua vedi la sinergia tra infrastrutture dei percorsi non gastronomici che già ci sono bisogna solo mettere in sinergia non solo come dire accoppiarli quindi cosa quasi a costo zero no? ci sono già anche i primi germi fra virgolette della nascita dei vari prodotti all inclusive esatto cioè volendo possiamo trovare già l'organizzazione pronta esattamente perché a quel punto l'agenzia di viaggio tour operator non deve far altro che prendere direttamente perché se già loro fanno sinergia devi solo essere onesto nel fare il tuo piccolo ricarico perché devi viverci anche tu a livello economico ma nello stesso tempo hai già tutto pronto è già pronto esatto e diventa tutto più semplice anche per te esatto poi guarda forse questa è una cosa che ti interessa perché vedi anche loro hanno sentito l'esigenza di creare una nuova idea imprenditoriale nel settore appunto dello sviluppo turisco vedi quindi anche questo è interessante quello che dicevamo prima l'imprenditore vitivinico l'imprenditore anche del turismo deve appunto rinventarsi e quindi è quello che dicevamo all'inizio quindi creare nella vigna non soltanto che è un luogo di lavoro dove tu raccogli un prodotto ma tu lo fai non arri è questo che deve subentrare perché altrimenti se no uno va a vedere una qualsiasi vigna in qualsiasi altro posto magari più vicino a casa sua invece se tu crei un'esperienza unica che si può vivere solo lì nella vigna tal d'Italia in questa valle ecco che il turista è motivato a fare 300 chilometri quanti ne vuole fare per venire lì a vederla però ci vuole loro l'hanno detto una nuova idea imprenditoriale cioè non è quello che aspetta o fa solo vino nel senso che raccoglie l'uva e la imbottiglia quindi ci vuole una nuova modalità anche di proporsi sul territorio anche questo appunto mi è piaciuto molto vedi un'idea di impresa privata e anche qui di nuovo vedi creazione azioni permanenti non spot non spot magari hai già sentito parlare di Tascapan Valle d'Aosta sistema che è e-commerce ma gioca anche sulla musealizzazione ecco potrebbe essere un ottimo spunto un ottimo spunto che appunto possiamo dare andare a visitarla appunto questa esperienza assolutamente potrebbe essere interessante quella cosa lì perché qui ci sarebbe ancora tanto altro ma stiamo stiamo sforando no infatti stiamo abusando e di fatti anch'io mi avvio appunto alla conclusione le conclusioni appunto a cui siamo arrivati è come vedi appunto innanzitutto la strategia dei due progetti non avrebbe senso farne uno e l'altro quindi quelli che abbiamo illustrato all'inizio poi ancora di nuovo una strategia sinergica vedi che sono le parole chiave che permette l'interazione tra agricoltura e turismo ormai non c'è verso è così e basta non c'è solo agricoltura e non c'è solo turismo staccati l'hai detto anche tu quindi è tutta la puntata abbiamo detto questo poi l'ascolto consapevole delle istanze del territorio il processo di partecipazione che è la metà del percorso che hai visto che abbiamo presentato perché adesso ci sarà la seconda parte l'abbiamo fatto nel senso che si è mossa questa cosa e abbiamo visto i benefici una valle che quindi può diventare laboratorio e quindi ecco qua le contaminazioni di tutto quello che ci hai detto tu che è quello che scopriranno anche loro in un futuro non dobbiamo mica essere sempre noi a dirgli qualcosa anche le stesse cittadini possono scoprire una cosa bella andando in giro a fare turismo e tornando a casa e quindi ecco questa proposta agroecologica perché ovviamente noi abbiamo bisogno di resilienza soprattutto in montagna soprattutto con il cambiamento climatico soprattutto con appunto le varie anche temperie malattie che vengono ai prodotti del territorio appunto la vite piuttosto che quindi c'è bisogno assolutamente di resilienza perché altrimenti non si sopravvive non si riesce appunto a fare il passo successivo si muore ovviamente questa è un'altra di quelle parole che ormai abbiamo imparato è nell'agenda ormai di tutti e ecco vi volevo lasciare poi dopo apriamo pure qualche se c'è qualche spunto anche dalla chat e me lo dici tu un'immagine ecco questa che è un'immagine proprio che ho scattato io della valle dove appunto si vedono le caratteristiche quindi ecco questa è appunto c'è un'area naturale c'è del bosco bisogna lasciarle queste cose c'è l'agricoltura ci sono i piccoli paesi che sono dei borghi arroccati quindi c'è anche questo valore interessante della storia piccole chiese dossi preistoria c'è addirittura ovviamente come in tutta l'Europa ci sono le due appunto volti della valle che si mostrano in tutta la loro peculiarità certo allora io ti dico che di domande non ne sono arrivate dalla chat ma molto probabilmente ne arriveranno perché conosco tra virgolette i miei polli nel senso che ci vuole un po' di tempo anche con Claudio Rossi ho visto che passa un po' di tempo ed ecco che poi arriva la o le domande per il momento anch'io non ne ho ma non peraltro ma perché hai toccato talmente tanti punti e qualche esempio te l'ho portato mentre parlavi ma credo che questa puntata per certi versi va proprio presa centellinata minuto per minuto perché è lì che si nasconde fra virgolette il grande segreto di chi fa sviluppo territoriale ok diciamola proprio così e non perché sei tu a parlare che ci conosciamo ma proprio perché il più grande errore che ci portiamo dietro da ormai un ventennio se non di più è proprio stato quello di vedere il territorio abbiamo tralasciato Eugenio Turi ed altri che avevano scritto tantissimo li abbiamo un po' mollati per la serie abbiamo il libro nella nostra libreria ma vorrei mica leggerlo per la serie e ci siamo portati degli errori incredibili da questo punto di vista e adesso ne stiamo pagando tra virgolette gli scotti la pandemia ci ha messo di fronte al fatto che ad esempio il concetto di impresa la domanda che ti faccio rispondere proprio perché mi interessa non ce la faccio più a tenermela dentro è ma come hanno visto gli operatori del turismo esistenti oggi in valdicembra tutto questo cambiamento questa cosa e che cosa hanno proposto ovviamente in pillolissime perché siamo fuori tempo massimo però dall'altra parte perché è lì che è l'altro ganglio problematico dici appunto nel senso del post pandemia sì il post pandemia ma anche proprio il turista diciamo l'offerta turistica classica quella da giacca e cravatta dell'albergatore piuttosto che non funziona più l'han detto infatti hanno detto che quella non funziona primo perché tra l'altro è una cosa interessante che hanno detto che si sono fatti un autocrite dicendo che loro non sono portati a fare questo quindi anche questa cosa è molto interessante nel senso che l'hanno fatto ma era si vedeva che era finito con una forzatura e quindi non era credibile quindi loro la prima cosa che hanno chiesto appunto che hanno proprio gli operatori del settore hanno detto vogliamo essere più credibili vogliamo presentarci come siamo con la faccia acqua e sapone pulita senza creare delle aspettative false perché anche questa è una delle cose che purtroppo è successa negli anni molto negli anni addietro l'autenticità di cui abbiamo parlato che poi era il fintone incredibile esatto quindi questa è una bellissima motocletica che loro hanno detto dicendo noi siamo capaci di fare questo in questo modo lavoriamoci su questo però quindi non andiamo appunto a creare delle maschere che non sappiamo indossare per l'accoglienza come dici tu anche soltanto l'aprire la porta al turista in albergo quindi questo è sicuramente poi dall'altro lato loro hanno chiesto a fortissima voce appunto questa quello che abbiamo un po' detto prima l'interazione perché loro si sentono soli nel senso settori a scomparto quindi a gran voce hanno chiesto appunto l'interazione con la produzione l'enogastronomia quindi la produzione sia vitivinicola la cantina piuttosto che ma anche la produzione agricola perché c'è hanno dei particolari prodotti molto anche di nicchia fatti in un certo modo formaggi piuttosto che confetture tisane eccetera eccetera e quindi anche lì hanno detto nei nostri alberghi nei nostri ristoranti dobbiamo servire questo il produttore ci viene a spiegare che cos'è noi lo raccontiamo quando facciamo il piatto quando il nostro cuoco prepara il menù e mettiamo dentro la maggior parte dei prodotti della valle poi prenderemo anche quelli del Trentino però se no uno anche qua viene nel nostro albergo per anche mangiare per dire per avere anche quel momento perché deve venire da noi perché non deve andare appunto come dicevo prima a Madonna e Campiglio piuttosto che se mangia la stessa roba cioè se mangia canederli dappertutto per dirti c'è una malalità per loro ci hanno proprio detto questo quindi anche qua creare una cultura del territorio sinergica dove il produttore va a spiegare il prodotto all'albergatore che poi in questo modo che lo conosce lo può proporre al turista e poi gli può dire poi però lo puoi andare a comprare hai capito? quindi diventa proprio loro hanno proprio chiesto questa economia circolare questa economia circolare che è l'unica che loro vedono come possibile per una micro valle del genere che tra l'altro è attorniata come abbiamo detto prima da proposte turistiche di alto livello quindi tra lo sci della Val di Fassa l'Alto Adige quindi loro appunto vogliono creare una specie di brand però non il marchio che poi lasci lì e basta perché di brand ormai ce ne sono tanti ma un concreto cioè fatto in questo modo dove tu veramente assaggi la valle dove tu veramente assapori la valle la senti l'odore della valle e poi anche loro una delle proposte concrete una di quelle che appunto lui ti lascio queste passeggiate condotte appunto da anche ragazzi giovani tipo del servizio civile piuttosto che formati che escono dagli istituti turistici per accompagnare il turista a visitare queste cose nascoste quello che dicevi tu queste cose nascoste del territorio che un turista magari da solo non riesce a fare gli organizzi questa come dire micro passeggiata in pochi che è un po' quello che hanno riscoperto un po' con la pandemia e hanno visto che la gente era esaltata da questo tipo di micro percorsi no? L'intenda in mention questa forma nascosta sarà uno dei trend più grossi di ripartenza sarà proprio lo slancio sarà proprio l'uscita delle persone perché gli manca l'aria ormai da dentro le case quindi se seguite quel trend lì state pur tranquilli che la strada è spianata da quel punto di vista lì bene ci fermiamo però Marta perché se no non ce la facciamo più se no non mandiamo più a mangiare le persone dopo ci dicono che li facciamo dimagrire adesso abbiamo fatto venire fame e beh è giusto che vadano a tavola è il momento allora vi ringraziamo in particolare grazie tantissimo a Marta Villa noi ci diamo appuntamento il 4 di marzo venerdì 4 di marzo con l'amico Elia Frappolli consulente di Ticino Turismo finalmente anche noi usciamo dai confini nazionali andiamo a parlare con gli amici svizzeri Elia lo conosco da un po' di tempo quindi avremo tutto la puntata per raccontare anche gli hackathon sul turismo piuttosto che altro che abbiamo messo in piedi e grazie ancora a tutti vedo che ci arriva anche qualche arrivederci quindi grazie e buona serata buon fine settimana ci vediamo venerdì prossimo ciao ciao